Ehi fu, siccome immobile, ebbene sì, è il 5 maggio, il mortal sospiro è ben lungi dall'essere salato, la fel di Eboli è viva e vegeta, è pronta a dare a battaglia a Real Rieti, in paleo c'è gara 3 playoff, la possibilità di accedere alle semifinali scudetto, il comandante Cipolla ha lasciato la Francia per guidare le truppe rosso-blu, sorretto e sospinto da un pubblico che non è mai stanco di lottare insieme ai propri beniamini, alzate il volume e godetevi la sfida, benvenuti dal Paladir Seu, fel di Eboli, Real Rieti, gara 2 playoff, quarti di finale. Adesso è davvero tutto pronto, fischia il signor Scarpelli, parte, fel di Eboli, Real Rieti, gara 2, dei quarti di finale playoff, subito una palla in avanti con Rafinha che prova la conclusione, il primo squillo è il suo, è la prima parata di Lion. Corner per il Rieti, Rafinha, serve Nicolodi, che calcia! La sporca Cimanghigno ma non trova la rete, Boccao, in avanti per Fornari, Fornari si gira, calcia Fornari! È uscito però a trovare la rete già del Fornari che adesso riceve palla, sempre spalla alla porta, la tiene Fornari, calcia! Ancora Micoli a lottare con Arrieta, ne esce il 12 della fel di Eboli, palla per Fornari che si gira! Bellissima palla di Arrieta per Andrei, Andrei contro Micoli! Andrei Ferreira! 1-0 fel di Eboli! Adesso ci prova allora il Real Rieti con Cacà che serve alle MAU, si va da Giosigno, Giosigno le fitte su Caponigro! Il pareggio immediato del Real Rieti, Giosigno! Pressione altissima adesso della fel di Eboli, palla che resta vagante, ci prova Caponigro, para Micoli! Pressione altissima del Rieti, Osico in difficoltà, la perde Giosigno, serve Cimanghigno! Boccao proverà la conclusione o servirà qualcuno? C'è il tocco per Fornari! Appuntare Boccao, Cimanghigno, calcia! Il palo di Cimanghigno! Che a detta del pubblico, l'arbitro, sta fischiando pochissimo in favore dei padroni di casa, intanto la palla in avanti di Tulli per Andrei! E ne è servito Lion, che calcia! Duello aereo con Giosigno, ancora Fornari, serve Romano, Romano dentro, la tocca Giosigno, palla per Osico! Che sciupa! Jefferson a cercare Cimanghigno, elude Boccao, calcia Cimanghigno! Jefferson dentro per Caccao, conclusione ribattuta, Andrei allora per Lion, pressione di Jefferson! Scambia con Caccao, fanno correre la fel di Eboli, c'è l'imbucata per Caccao che è solissimo Caccao! Ma non arriva nessuno della fel di Eboli, riparte Nicolodi, Nicolodi calcia e sul secondo palo! Caccao la mette dentro per il 2-1 Rieti! Raffinia perde palla, Fornari è lì come un lupo, Fornari calcia! Osico, Alemao a porta spalancata, fuori di un soffio! Ci prova Rieta, la palla arriva a Fornari, ancora Micoli! Fornari, parata di Micoli! Andrei la mette dentro, palla per Fornari, Andrei salva sulla linea Raffinia! Ancora Rieta, 49 secondi, Osico, calcia lui, Micoli la palla resta lì! Non entra, non entra questa sera! E finisce qui, il Real Rieti raggiunge il Pesaro nelle semifinali Scudetto! Terzo tempo al centro del campo! Non entra, non entra, non entra... Ancora Rieti raggiunge il Pesaro nel palo! Grazie.